Oggi a quanto pare Giove è davvero una furia Ogni volta che succede il raccorto fallisce E così di conseguenza anche il commercio Così il popolo va in grandissime pressioni Andrò nel Naos a pregare e a fare qualche rito Per cercare di pregare la sua furia Speriamo non sia nulla di grado Che tempo orrendo Grazie a tutti Grazie a tutti